Buonasera, ben trovati ai Reporter Sport, weekend calcistico, ormai siamo quasi al termine dei campionati con già parecchi risultati acquisiti da parte di determinate società, vabbè però andiamo con ordine, andiamo a vedere quello che accadrà domenica in Serie A, andiamo a il turno della giornata con ormai la Juve già vincitice lo Scudetto, l'Udinese che a fronte il Torino dovrà vincere per togliersi qualche ancora pensiero per quanto riguarda la retrocessione, chi invece che a fronte la Fiorentina che è già salvo, Juventus Carpi, Empoli e Bologna, Milan Frosinone, Palermo Sampdoria, Sassuolo Verona, Verona già retrocesso ormai con un paio di giornata in anticipo, Lazio-Inter, Genoa-Roma, Napoli-Atalanta, è dunque un campionato che ha già quasi dato tutti i suoi verdetti dalla vincitrice dello Scudetto, ovviamente alle partecipanti alla Champions, all'Europa League, per la retrocessione ormai si gioca per un posto per quattro società con il Verona già a retrocesso, se la giocano il Carpi, il Ginone e purtroppo anche il Palermo. Andiamo a vedere invece la Serie B che invece è proprio sul pieno perché al di là delle squadre promosse direttamente che oramai manca un punto al Crotone e poco di più al Cagliari, però il gioco è interessante per quanto riguardano i play-off e la zona retrocessioni. Domani si giocherà Modena-Crotone, Ascoli-Sanlintana, Brescia-Vicenza, Cagliari-Livorno, Entella-Pescara, Lanciano-Vellino, Latina-Spezia, Perugia-Bari, Trapani-Novara, Comote-Nana-Cesina-Vercelli. E in Vicenza gioca Brescia una gara molto delicata perché dopo la sconfitta interna con la Spezia per 3-0, dopo aver ottenuto dei risultati positivi, la squadra davvero Vicentina deve tornare a portare a casa dei punti per togliersi da quella zona che si era già tolta per un periodo, però dopo la sconfitta della settimana scorsa è ricaduta e quindi davvero un Vicenza che deve tornare con dei punti soprattutto importanti da quel di Brescia nella gara di domani. Domani si gioca anche la penultima giornata della Lega Pro, si giocherà alle 14.30, andiamo a vedere il turno con già anche qui verdetti acquisiti come la promozione della Cittadella, domani si giocherà Albino Leff e Lumezzane, Alessandria Reggiana, Bassano Padova, Cittadella Cremonese, Cuneo Renate, Gianerminio Farralbisalò, Pavia Pordenone, Propati a Mantua e Piacenza, Pro Piacenza su Tirol. Ovviamente la gara interessante a Bassano per quanto riguarda la squadra Vicentina per la zona play-off e a Pavia dove il Pordenone si gioca delle praticamente chance importanti per rimanere in zona play-off, queste sono le due squadre. Il Padova con la sconfitta di domenica scorsa con il Gianermino ha gettato via tutte le piccole speranze per poter agguantare questa zona. Però sentiamo cosa dice il mister Pillon che siamo andati a intervistarlo questa mattina. Voglio vedere l'aggressività, la determinazione che non ho visto in queste ultime partite, voglio vedere una squadra cattiva, fra virgolette. Sappiamo che giochiamo contro una squadra che secondo me è quella che gioca miglior calcio, da quello che ho visto, dalle immagini, dalle partite che ho viste. Gioca molto bene, bisogna fargli complimenti a loro perché giocano un bel calcio, offensivo, hanno giocatori di grande qualità. Insomma, una squadra da prendere con la mole, ma noi abbiamo l'obbligo di andare lì, di fare la nostra partita, mentre in campo le nostre qualità e cercare di far bene. Io mi auguro che ci sia una risposta positiva sul piano agonistico, sul piano della prestazione. Poi nel calcio, come sapete bene voi, si vince, si perde, si pareggia. Però l'atteggiamento, non voglio vedere l'atteggiamento dalle ultime partite, voglio vedere un atteggiamento diverso, voglio vedere un'aggressività diversa. Voglio vedere una squadra convinta, una squadra che gioca, ma anche a briglie sciolte. Tanto ormai senza avere problemi, senza pensare a altre cose, pensare solo a giocare bene, cercare di far godi. Io, come ho sempre detto, dobbiamo guardare più noi stessi, cercare di fare quello che dovevamo fare, quello che non abbiamo fatto domenica. Nel senso, noi dovevamo fare il nostro, non l'abbiamo fatto domenica, perciò senza guardare gli altri. Per gli altri può succedere che c'è il capitombolo e te dovevi essere pronto, non lo siamo stati. Ma questo è un dato di fatto, non è che lo dico io, sono i fatti che lo dicono, purtroppo è andata male. Però non bisogna scordare neanche tutto quello che è stato fatto. Nel senso, da dove siamo partiti, a dove siamo, a giocarsi tutte le nostre possibilità, fino alla penultima del campionato, dei play-off. Vuol dire che la squadra, al di là dell'ultima prestazione, ha fatto cose importanti, ha fatto cose positive. Perciò, anche se io l'ho ripresa, perché mi sembrava giusto riprenderla in quel momento lì, ma non ci siamo di quello che hanno fatto, ma non ci sono discussioni, insomma, da questo punto di vista. Peccato però, perché nonostante, giustamente come diceva, vivendo tutto il bene fatto, non è per una partita con i Gianni Milo. Il Padova non è riuscito, non a raggiungere il play-off ovviamente, perché non era detto questo, però quantomeno dare una speranza e un senso a queste due gare di finale di campionato per quanto riguarda il Padova. Noi domani comunque ci saremo su TV7 Triveneta alle ore 14 per seguire tutta la Lega Pro e ovviamente anche tutta la Serie B. E ci saremo anche domenica per raccontarvi tutti i campionati, tutti i campionati di eccellenza, di promozione della Serie A. Andiamo a vedere anzi i turni della Serie D, perché vi ricordo anche qui mancano poche giornate, i Vardetti per quanto riguarda la promozione sono già stati dati, Venezia nel Gironesi e Parma nel Gironesi. Le altre gare, Abano, Laferra d'Ora, Calvi, Mestre, Campodarsico, Belluno, Liventina, Estre, Luparese, Triestina, Montebelluna, Levi, Cotamai, Fontana Fredda, Monfalcone, Sacilese, Venezia, Giorgione, Virtus, Vecob, Dro, Venezia, Giorgione che si giocherà a porte chiuse, ovviamente per intemperanza dei tifosi nell'ultima trasferta dove ha visto la squadra veneziana raggiungere la Lega Pro, però comunque Venezia che festeggerà questa promozione meritatissima. Andiamo nel girone D della Serie D, con queste gare, ecco la grafica che arriva, Aldo Vicentino Razzignano, Crudinese, Villafranca, Correggese, Virtus, Forlì, San Maurese, Legnago, Imolese, Lentigione, Samarino, Mezzolara, Forti, Juventus, Parma, Bellaria, Ribelle, Deltaro Vigo, Romagna Centro, Ravenna, ormai i giochi ci sono solo esclusivamente per quanto riguarda le retrocessioni, già nel girone C si sono decisi anche quelle che andranno ai play-off, nel girone D c'è ancora qualcosa da sistemare, però ormai anche qui tranne la retrocessione diciamo che c'è già una linea ben chiara per quanto riguarda play-off e play-out. Detto tutto questo vi aspetto anche domenica, invece che alle 14, alle 14.30, per raccontarvi come vi dicevo, Serie A, la Serie D, i primi verdetti dell'eccellenza, della prima categoria, insomma vi racconteremo tante cose domenica alle 14.30 e domani sabato alle 14.00. E con questo è davvero tutto.